ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video parliamo sempre di power station che a volte hanno l'espansione la possibilità di espandere l'accumulo a volte no ma indipendentemente da questo oggi vi faccio vedere una condizione che in realtà mi si è verificata qui in negozio dove un cliente mi chiedeva ma io ho un problema da risolvere perché ho le power station che a una certa ora del giorno sono completamente cariche al 100% ho ancora i pannelli che magari produrrebbero e non riesco ad accumulare l'energia però ho una power station che non è espandibile oppure non voglio comprare la sua espansione perché costa troppo e questo discorso vale un po per tutte le power station come possiamo fare io ho detto beh semplicemente possiamo prendere una batteria esterna una live po 4 12 volt costruiamo il cavo perché avevo qua il materiale per farlo e compriamo un caricabatterie adeguato per la batteria live po 4 quando tu arrivi a luna di pomeriggio che hai la tua power station 100% attacchi un caricabatterie carichi un'altra batteria esterna che chiaramente costa meno di un accumulo predisposto per la power station sempre sempre disposta per l'espansione così la carichi quando poi la sera alla notte inizia a usare la tua power station o in qualsiasi momento se vedi che sta scendendo la percentuale dell'accumulo interno attacchi questa batteria che precedentemente hai caricato gratis perché l'hai caricata col sole in ingresso sulla power station e praticamente aumenti l'accumulo e allora cosa ho fatto io preparato io ho venduto una batteria io ho preparato un cavo io ho spiegato poi come gestire tutto e già che c'era ho registrato due clip così vi faccio vedere che è una cosa concettualmente molto semplice è chiaro e molto macchinosa perché dovete farlo voi a mano poi magari creandovi delle automazioni con dei relè sciarvellandovi un po' riuscite magari a gestirlo in modo un po' più automatico però di fatto dovete caricarla quando la power station è al 100% staccare il suo caricabatterie e usarla al contrario quando l'accumulo della power station inizia a scendere perché la state usando questo era per spiegarvi cosa vi faccio vedere oggi nella realtà dei fatti vi dico che abbiamo usato una batteria life 4 da 100 per ora ho costruito un cavo comprando il cavo mettendo gli occhielli mettendo il connettore xt60 perché questa power station ha l'ingresso xt60 il cavolo costruito ma potete tranquillamente comprarlo vi lascio un po' di link in descrizione e se avete una power station che ha l'ingresso anderson piuttosto che l'ingresso proprietario come le bluetti eccetera potete procurarvi un cavo da modificare o un cavo già fatto per collegarvi direttamente ai poli della batteria esterna adesso vi faccio vedere un attimo tutta la procedura a prima iscrivetevi al canale perché giuro non costa niente nessuno vi chiederà mai nulla ma mi dareste un grosso supporto per continuare a portare avanti tutti questi contributi che porto sul canale buon video bene quindi per costruire il nostro cavo se non vogliamo comprarlo già fatto possiamo prendere un kit di capicorda da crimpare tipo questo e nello specifico caso useremo due di questi con l'ingresso più piccolo insieme di solito mandano già della guaina termorestringente e prendiamo due pezzi piccoli poi dobbiamo comprare del cavo io come misura per fare queste cose vi consiglio un 12 avg potete prendere ad esempio una matassa tipo questa da 5 metri è un cavo bello spesso fatto bene ideale per queste cose e vi tagliate poi all'occorrenza quello che vi serve in questo caso io farò un cavo da un metro e mezzo che basta avanza da crimpare questi qua sono da crimpare con una pinza del genere che costa una 20 25 euro quindi se vi volete attrezzare per fare sta roba la spesa non è enorme però c'è come procediamo spegliamo il cavo a misura per andare dentro l'occhiello ma non troppo vedete una cosa del genere rimane tutto il rame fino ad appoggiare qua sul foro in modo che lo crimpiamo nel modo corretto oppure se non volete attrezzarvi di pinze possiamo tranquillamente saldarlo quindi spegliamo il cavo anche da quest'altra parte possiamo farlo tranquillamente con un saldatore fai da te come questo che vi avevo fatto vedere un po di tempo fa lo accendiamo lo mettiamo ad una potenza abbastanza alta da garantire che lo stagno si sciogga bene all'interno dopodichè facciamo una bella colata di stagno all'interno del capicorda in rame cerchiamo di riscaldare di nuovo tutto lo stagno che c'era all'interno in modo da consentire l'ingresso del cavo vedete che poi quando è tutto sciolto entra senza problemi adesso abbiamo sciolto un po il pezzo della pinza era meglio togliere i gommini in questo modo abbiamo saldato il nostro capicorda a stagno e da qua non viene via mai più facciamo anche l'altro quindi abbiamo saldato il positivo il negativo che saranno ancora bollenti ma da qui non vengono più via questo tipo di guaina riusciamo a farlo entrare giusto anche se ci siamo dimenticati di inserirla prima vedete che è proprio giusta giusta a questo punto gli diamo una scaldata per chiudere bene e fare un lavoro più pulito anche se non abbiamo quella rossa nera va bene uguale ok questo è un bel lavoretto lato batteria siamo a posto ora prendendo come esempio per non smagliarci un cavo già fatto xt 60 la parte che interessa a noi è questa quindi dobbiamo prendere un connettore un coperchio sempre prendendo come esempio un cavo già fatto capiamo che la parte sotto quadrata è il positivo e la parte superiore è il negativo quindi quella smussata è un negativo ora qui dobbiamo fare la stessa cosa ma siamo un po più stretti quindi dovremmo fare una spellatura più piccola per consentire l'inserimento e la saldatura nel connettore e questo lo mettiamo prima qui invece operiamo in modo diverso diamo una pre stagnata al cavo poi prendiamo il nostro connettore xt 60 diamo una stagnata anche qua leggera e non dobbiamo fare altro che saldare i due pezzi di cavo riscaldiamo di nuovo il cavo per stagnato mentre scaldiamo il cavo ci avviciniamo al terminale del connettore finché non riusciamo a saldarlo tutto correttamente alla parte stagnata facciamo la stessa cosa sul positivo i connettori dentro sono ben distanti non c'è pericolo di fare danni rimettiamo il coperchio ok abbiamo tenuto la stessa cosa stessa polarità e abbiamo costruito un cavo da un metro e mezzo xt 60 con i capicorda per la batteria se questo cavo non avete voglia di farvelo o non avete i mezzi lo vendono già fatto vi lascio il link in descrizione arrivati a questo punto prendiamo come esempio questa batteria sunfo live po 4 12.8 volte 100 am per ora qui abbiamo anche un display che ci fa vedere lo stato della batteria la temperatura la tensione ci dà la possibilità di accendere e spegnere questo controller cosa dobbiamo fare ci dobbiamo collegare la batteria quindi con tutto quello che ci danno in dotazione ovviamente non dobbiamo sbagliare dobbiamo mettere polo negativo sul polo negativo e polo positivo sul polo positivo stringete bene i poli non fate corto ovviamente con le mani e né con nessun altro attrezzo conduttivo in questo momento sul connettore vedete che abbiamo i nostri 12.8 volt ok una volta collegato il nostro cavo alla batteria attenzione perché anche una batteria come questa che ha un controller integrato ma che in realtà serve solo ad indicare la percentuale di batteria la tensione e la temperatura non vuol dire che spenga poi l'erogazione della corrente sui poli perché se noi andiamo a misurare vedete che abbiamo comunque sempre 12.8 in uscita quindi prendiamo una piccola power station come questa all power che adesso è al 65 per cento colleghiamo il nostro connettore perché lei ha l'ingresso xt60 tra qualche secondo il regolatore integrato sentirà l'ingresso vedete che parte la ricarica sale progressivamente quindi non di botto che tanto meglio e si attesta sui 100 watt una polo station come questa ma in generale un po tutte dal 12 volte riescono più o meno a prendere solo questa potenza se noi la carichiamo quando in stand by non abbiamo bisogno di compensare un carico esterno va benissimo o altrimenti avevo fatto un video dedicato sull'utilizzo di un convertitore 12 48 in questo caso la potenza salirebbe da 100 a 330 watt circa quindi lei sta caricando stiamo usando una batteria esterna come accumulo come espansione virtuale ora vediamo come fare il contrario ossia caricare una batteria esterna quando la power station è completamente full e magari abbiamo un ingresso fotovoltaico che continua a buttare dentro e non vogliamo sprecare questa produzione che in quel momento non riusciamo a sfruttare il consiglio è sempre quello di comprare un caricabatterie specifico per life po 4 quindi non quelli universali che fanno un po di tutto ma specifico per life po 4 e anche di buona qualità diffidate da quelli che costano 20 30 euro perché poi vi rovinano la batteria ad esempio andare su una marca come green shell che produce ottimi dispositivi tra cui l'inverter che ho sul furgone che era già stato oggetto di altri video produce vari tipi di caricabatterie tra cui questo caricabatterie specifico per batterie life po 4 quindi green shell life po 4 charger si chiama ad cav 02 uscita 14 6 10 ampere che va benissimo per una batteria da 100 ampere ora 12 volt questo alimentatore ha solamente un fusibile e ne abbiamo uno di scorta sul 230 due led ma soprattutto ha il raffreddamento forzato questo evento la gira sempre magari è fastidiosa fa rumore ok ma i caricabatterie per le life po 4 scaldano sempre e anche di brutto quindi va benissimo che sia raffreddato un case fatto bene con un buon passaggio dell'aria può preservarne l'efficienza e la durata nel tempo fornito con cavo spin asciugo e attacco standard ora l'attacco alla rete 230 per farvi vedere che quando lo alimentiamo si illuminano il led rosso e led verde fissi poi prendiamo i nostri cavi che sono semplicemente positivo e negativo li mettiamo direttamente sul dado quindi non dobbiamo ogni volta smontare tutto quanto parte la ricarica e il led verde diventa rosso quindi finché in carica rimane in questa condizione con la ventola che gira ve la faccio sentire la ventola c'è ma ci va stacchiamo un pollo della batteria ma quello che noi volevamo fare era caricare la batteria quando la power station arriva al 100 per cento quindi accendiamo una power station accendiamo l'uscita c il caricabatterie si illumina correttamente attacchiamo il polo negativo parte la ventola parte la ricarica stiamo tirando 160 watt in uscita dalla power station questo è l'ecosistema ideale per aggiungere una batteria virtuale un accumulo un'espansione su delle power station che non hanno la predisposizione o delle quali comunque non volete comprare l'espansione originale è chiaro che la gestione è completamente manuale nel senso che quando la power station è piena al limite potete mettere una presa smart che comanda il caricabatterie che a sua volta ricarica la batteria quando la batteria è carica la power station inizia andare giù attaccate l'xt 60 un altro connettore e continuate a ricaricare la power station mentre eroga o mentre in stand by con la batteria che avete caricato quando il fotovoltaico non veniva più sfruttato perché lei aveva la batteria interna carica chiaramente questo esempio è stato fatto con una batteria 12 volt 100 per ora è una power station all power da 600 watt ma il discorso vale un po per tutte questo è quanto se volete cimentarvi in un po di fai da te vi costruite il cavo vi fate i cablaggi tutto quanto mi chiederete il caso di mettere un fusibile magari tra la batteria e la power station no perché comunque tirate 100 watt voglio dire è veramente poco però un fusibile uno stack batteria e una protezione magnetotermica in mezzo male non fa unica cosa di cui dovete tenere conto è che alcune power station sono un po pigre schizzinose ossia vi danno la possibilità di ricaricare dall'ingresso che poi è quello del fotovoltaico di solito partendo magari da 12 volte fino a 60 150 quello che è questa partenza di 12 volte se magari è troppo risicata voi dovete calcolare che la batteria esterna che è 12.8 volte man mano che scende scende di tensione quindi se andate troppo giù magari a 11 6 11 7 potrebbe già essere che la power station stacca non preleva più dalla batteria esterna quando magari avete ancora al 60 70 per cento se avete un problema di questo tipo bisogna calcolare di fare un lavoro nello stesso modo ma usando una batteria 24 così siete sicuri che quando la batteria è completamente scarica arriverà verosimilmente a 21 volt circa quello che è ma voi comunque la sfruttate al 100 per cento allora in quel caso una batteria da 24 o due da 12 in serie e un caricatore a 12 volt da usare per tutte e due o un caricatore a 24 quindi tenete conto solo di questa situazione per sapere se vi basta la 12 o se vi serve la 24 purtroppo dipende dalla vostra power station dalla tensione minima che accetta l'ingresso se siete un po sbanettoni se volete fare una cosa del genere magari avete modo di simularlo per capire fino a che tensione accetta perché poi la scheda tecnica non sempre così veritiera però con questo video di avervi dato qualche spunto utile questo è un altro modo diciamo più economico per espandere le vostre power station perché ormai le power station stanno prendendo molto piede quindi vi ho voluto dare un'opzione soprattutto perché mi è capitato di farla allora ho detto già che ci siamo realizziamo un video grazie a tutti un bel like se vi è piaciuto ricordatevi sempre noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta siamo in periodo di natale buone feste a tutti ciao da massidattoli